Sui muti risponderò sempre in consiglio perché secondo me si è aperto un caso che non esiste, però lo dimostreremo in consiglio, non voglio assolutamente anticipare. Certo un po' di amarezza sul palazzetto mi viene perché probabilmente se non fossi il presidente di questa società, della Volley Brawl, probabilmente il palazzetto a Brawl sarebbe stato già costruito e realizzato. Purtroppo si paga lo scotto di un momento politico dove non si guarda assolutamente all'interesse collettivo ma si guarda ad abbattere il nemico. Ma io sono assolutamente fiducioso, sono sicuro che anche le parti politiche in questo momento non vogliono ragionare, ritorneranno a ragionare. Quindi in questo momento il progetto palazzetto viene congelato perché non hanno assolutamente su un fatto che riguarda la mia società, coinvolgere assolutamente il paese, nel momento in cui la politica vorrà ridiscutere e non affrontare il nemico solo come un nemico personale, riparleremo di palazzetto.